Una delle problematiche più importanti rispetto all'utilizzo del trasporto su gomma rispetto a quello ferroviario è stata naturalmente la qualità dell'aria. Qui alle mie spalle la potete vedere, c'è l'unica centralina fissa nella città di Andria. Siamo in via vaccina e come potete vedere sempre alle mie spalle siamo a neanche 50 metri dalla piazza della stazione. Centralina dell'ARPA che dal 12 luglio scorso e dal momento in cui i trasporti hanno cominciato ad essere soprattutto su gomma e all'interno della piazza della stazione diversi capolinea si sono incrociati, naturalmente ha rilevato dati peggiorativi della qualità dell'aria. C'è stato un disagio soprattutto di traffico veicolare proprio in una piazza che preda di diverse soste di mezzi pesanti, bus di diverso specie. Ma a livello ambientale non ci sono grossi problemi anche perché proprio su via vaccina c'è una centralina fissa di rilevamento di qualità dell'aria gestita chiaramente dall'ARPA che dall'inizio dell'anno ad oggi ci ha dato dei dati confortanti. Ci sono stati solo quattro sforamenti, chiaramente non tantissimi ma da controllare e da tenere sotto controllo. Il traffico veicolare chiaramente ne risente anche se due compagnie che effettuano trasporti sono state spostate come capolinea. Si sta pensando di spostare il tutto anche in largo a piani, chiaramente è allo studio questa alternativa che permetterà un decongestionamento proprio della zona che è una zona nevralgica perché è centrale e chiaramente ne risente anche il traffico e anche l'inquinamento diciamo acustico perché chiaramente sono mezzi pesanti e quindi c'è parecchio rumore. Che cosa c'è? Una delle richieste soprattutto dei residenti ma anche di parte del mondo cittadino, associazionistico e quant'altro chiedeva appunto lo spostamento dei terminal bus in largo a piani. Ci sono stati dei contatti ma in realtà c'è sostanzialmente un impasse rispetto a questo. Guardi su questo c'è il settore viabilità che sta curando proprio questo spostamento. So che hanno contattato diverse compagnie perché ricordiamo è un terminal piazza della stazione per intenderci dove diversi mezzi di diverse compagnie quindi si sta interloquendo, si sta pensando ma già da diverso tempo me ne ho occupato io già nel 2015 quindi c'era stata una richiesta formale a firma mia e del sindaco la ferrotranviaria di spostare il tutto largo a piani e farlo diventare un terminal bus. Poi si era arenata perché c'erano i lavori, poi chiaramente sappiamo tutti quello che è successo nessuno si augurava e si aspettava questa tragedia e si è rallentato un po' il tutto. Chiaramente per permettere soprattutto agli studenti e pendolari giornalieri di raggiungere le località passando sul trasporto su gomma si era ipotizzato quindi di lasciare il tutto presso la stazione.